Il valore di questa giornata? Intanto il valore è che un progetto dei ragazzi non è stato deluso dagli adulti, questo dice per sé un gran valore aggiunto. E poi perché è un segno di grande civiltà per questa città, è un premiale coloro che hanno dato la vita per costruire questa città, coloro che hanno avuto delle interazioni per dare ricchezza a questa città. Questo è per me fondamentale e molto importante. che si è utilizzato quest'opera è composto addirittura dal costo zero, quindi è ancora maggiore il suo valore.